Allora, permettetemi subito di spendere due parole perché l'ho ricordato anche ieri ero alla festa dell'Unità Ravenna. Domenico De Masi è stato un grande pensatore, pensatore a tutto tondo perché non è stato solo un sociologo, un professore universitario, ma quello che gli ho sempre invidiato è stata la grande capacità di riuscire a perseguire un sapere interdisciplinare, cosa oggi rarissima. Oggi c'è il dominio della iper-specializzazione. Però non è stato solo questo, un punto di riferimento anche a livello internazionale, era un grande appassionato di politica. Ieri ho fatto una battuta alla festa dell'Unità. Ho detto, pensate, marxista, per il fatto di averci difeso delle volte quando evidentemente ne era convinto, è passato anche per Grillino. In questo paese c'è questo rischio. Perché il pensiero libero spesso dà fastidio. Però è stato un grande uomo di grande umanità, un grande galantuomo, un grande intellettuale meridionale. Ricordo solo questa espressione. Pensate quale importanza dava anche all'educazione, alla cortesia nei rapporti, all'affabilità. Quando c'era qualcuno, parlavamo, c'era qualcuno che secondo lui era volgare nella modalità, nell'approccio, nella mancanza di rispetto dell'altro. Lui diceva, è un cafone. Grazie Presidente, anche per questo ricordo, se si vuole accomodare al centro.